Il rincaro dei materiali e delle spese energetiche si riverbera anche sui lavori programmati nelle strutture dell'Ulse Dolomiti. Attraverso una serie di deliberazioni l'azienda sanitaria ha riconosciuto alle imprese che si sono aggiudicate gli appalti risorse aggiuntive a compensazione delle maggiori spese sostenute nella seconda metà del 2021. Primo esempio la nuova base dell'elisocorso a Pieve di Cadore, il quadro economico iniziale in appalto circa 2 milioni 300 mila euro ha subito un rialzo di 33 mila euro. La somma per imprevisti compresa nel quadro economico del progetto è stata già utilizzata per oneri di noleggio di struttura provvisoria, per angaraggio elicottero, per maggiori costi di esproprio e per la redazione di una perizia suppletiva e di variante legata agli oneri covid. Questi costi hanno assorbito il risparmio del ribasso d'asta. Inoltre non esistono somme disponibili per lo stesso intervento estanziate annualmente e così l'ULS Dolomiti ha trovato risorse a disposizione nel piano di bonifica a Mianto. Stesso meccanismo anche per i 36 mila euro di compensazione per i lavori al pronto soccorso dell'ospedale di Agordo. Altro caso 127 mila euro in più nell'ampliamento del codi Villa Putti di Cortina a operazione da 17 milioni 900 mila euro ancora in corso. In questo frangente le risorse aggiuntive vengono dal piano di ristrutturazione dello stesso edificio considerando la durata di alcuni lavori particolarmente impegnativi e l'ulteriore considerevole aumento del prezzo di alcune materie prime si possono già ipotizzare eventuali compensazioni future.